Mi sono trovata subito in grado di affrontare i lavori che mi si sono trovati davanti. Imparare a stare nei tempi, essere veloci ed è qualcosa che poi effettivamente torna davvero utile nel mondo del lavoro. Questo è uno dei lavori di cui vado più fiera, è fatto tramite MAD, è la campagna per Impero Couture, la campagna Eternity, scattata a Cinecittà negli studios sul set Antica Roma. Uno dei lavori che sicuramente è stato più divertente e anche uno dei più belli è stato con una nuova cantante che sta emergendo in questo momento e appunto lei mi ha scelta come truccatrice per il suo disco per creare la sua copertina.